Siamo lasciati con un invito a ragionare su Italexit, chiamiamola così convenzionalmente. Allora la domanda questa settimana è, ma cosa succede se torniamo alla lira? Ok, bene, Italexit, certo. E con successo dovete seguirmi su tre punti. Occorrono tre cose, forma mentis, fiducia e la giusta economia. Partiamo dalla forma mentis, dobbiamo metterci in testa che l'entrata in questa Europa è stata per noi una guerra civile. Una guerra civile, se non capiamo questo non troviamo la forza per ribellarci e uscire. Allora la grande integrazione europea, davvero, guardate l'integrazione europea. Il disastro dello SMED, sistema monetario europeo, l'Italia negli anni 90, entra nello SMED, integrazione, le esportazioni italiane crollano in cantina, esce dallo SMED l'integrazione d'Italia e riparte per le stelle. L'Unione Europea di nove membri contava per un terzo della ricchezza mondiale, il 30% della ricchezza mondiale. L'integrazione europea, l'Europa dei 28 si è dimezzata, conta per il 17% della ricchezza mondiale. Una tragedia. La disoccupazione, vediamo i grafici della grande integrazione europea, li vediamo? Non li vediamo? Comunque, ok. Peccato. Eccoli là, guardate, guardate l'integrazione. Guardate cosa ha fatto la disoccupazione, partendo dagli anni 70, in Italia, ma l'Italia è il paesucolo. Guardate la Francia, ancora peggio la disoccupazione, è un disastro con l'integrazione europea. L'integrazione dell'euro dal 2000, l'Italia perde 400 magnifici marchi perché sono stati svenduti, sono stati deflazionati dal trucco chiamato euro e venduti ai tedeschi e ai cinesi. Una catastrofe. Nel 2012, l'Ox dice che quell'anno, il 2012, è per l'Italia l'anno peggiore dei consumi. Da quando? Dalla seconda guerra mondiale siamo in guerra. Il fatto quotidiano ci dice che i suicidi degli imprenditori e degli operai non vengono neanche più riportati dai media. Negli anni 70 gli imprenditori nascevano, non si ammassavano, gli operai nascevano, non si ammassavano. Allora, poi ci vuole fiducia, abbiamo fiducia nell'Italia, dobbiamo rimboccarsi le mani che siamo usciti dalla seconda guerra mondiale, eravamo in un paese distrutto, abbiamo portato l'Italia alla settima potenza mondiale in 30 anni. Bene, bisogna fare del lavoro. Abbiamo le più grandi, piccole, medie aziende del mondo, del mondo, 3 milioni e 900 mila, ok? Abbiamo un tasso di risparmi privato delle famiglie che nonostante la distruzione dell'euro è ancora uno dei maggiori al mondo ed è questo il boccone che la finanza vuole da noi, ci tengono dell'euro per mangiarsi sta roba. E Renzi manda i pensionati dalle finanziarie, vogliono mangiarsi sta roba. Con la sovranità monetaria avremo investimenti a pioggia, ne parlo dopo. E fu Theo Weigel, ex ministro delle finanze tedesco, che disse negli anni 90 vogliamo l'Italia nell'euro perché le piccole e medie aziende italiane stanno distruggendo quelle tedesche, quelle del Mittelstand, ecco perché ci hanno preso in sta trappola, ok? Possiamo farcela e ci vuole la giusta economia. Giusta economia vuol dire, come abbiamo detto con Gianluigi qua milioni di volte, tornare alla moneta sovrana. Avere sovranità monetaria significa placare i mercati perché sanno che con moneta sovrana il default è impossibile, assolutamente impossibile. E non sentirete mai più la parola spread, mai più. Ci vuole un programma di piena occupazione, possibilissimo con la sovranità monetaria. Il 100% dei disoccupati italiani viene assunto dallo Stato e viene portato verso il settore privato. Ma qui c'è una cosa che dovete sapere. Gli investitori internazionali la mattina alle 7 quando si svegliano a New York o a Londra o a Francoforte la prima cosa che guardano sui giornali è il tasso d'occupazione e dove sale vanno a investire. Con la piena occupazione vengono in Italia come le mosche. Allora poi bisogna sistemare le banche, certo. Il disastro bancario italiano è senza precedente. 360 miliardi di euro di buchi bancari. Le banche italiane sono fallite, hanno perso il 50% della loro capitalizzazione in 7 mesi, ok? Sono fallite, benissimo. Con la sovranità monetaria tira fuori 150 o 200 miliardi per lo Stato, per salvare i risparmiatori, non le banche. Ghisoli si può affogare, va bene? Allora è possibilissimo con la sovranità monetaria. Guardate il Giappone. Cosa fa il Giappone? Ha il 230% di debito sul PIL. Negli anni 90 il Giappone ha salvato tutte le sue banche. E chi è che si è messo ad applaudire? Bill Clinton, Presidente degli Stati Uniti d'America. Nel 2008 spende il Giappone 180 miliardi di soldi di Stato per salvare le banche e aumenta la spesa pubblica. E alla fine di quest'anno l'agenzia di reti Moody dice che le banche giapponesi sono messe molto in salute. Quelle italiane sono marce perché hanno la sovranità, ok? Benissimo. Allora, poi ci dicono che fuori dall'Europa non avremo scambi economici. Ha davvero? La Svizzera è fuori dall'Europa ed è grande così. La Svizzera da sola ha più trattati di libero scambio con il resto del mondo di tutta questa Europa marcia di 28 paesi messi assieme. 26 ne ha la Svizzera da sola. 23 e tutta questa Europa che sta collassando. Allora ricordatevi che ci vuole questa forma menti. Siamo in guerra. E io lancio uno slogan. Spigliamo la parola Eurozona. Togli Euro. Lascia zona. Aggiungi. Di guerra. Siamo in una zona di guerra. Dobbiamo andarcene. Paolo Barnard. E tra poco... Siamo in una zona di guerra.